Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questo è il video dei prodotti finiti del periodo Pescherò a random, come sempre giù nell'info box troverete tutti i vari link dei prodotti mostrati in modo da poter vedere inci, prezzo, dove acquistare prodotti eccetera Allora, sapete anche che sto iniziando un percorso un po' più sostenibile, zero waste ma vi avevo appunto già detto che avrei comunque terminato i prodotti che già ho in plastica, nelle confezioni di plastica quindi appunto in questo video vedrete alcuni di questi prodotti terminati Comunque parto Allora, parto con un gel doccia appena terminato di Balea questo qua era un'edizione limitata con idratante al profumo di carambola e anguria molto buono, come tutti i gel doccia di Balea questo aveva una profumazione sì dolce di anguria ma era un po' smorzata dall'agrumato invece della carambola molto buona Poi, terminato il sapone mani liquido di PH Bio questo qua è quello a lime Allora, questi saponi per le mani di PH Bio mi piacciono hanno delle profumazioni buone, molto delicate l'unica cosa è che seccano un pochino le mani e questa cosa me l'ha detta anche mamma quindi magari non sono da utilizzare più volte al giorno però comunque costano poco sono certificati IAB, vegan e quindi alla fin fine li consiglio Terminato sempre come gel doccia questo qua invece di Sien, linea sensitive 0% profumi e coloranti è un prodotto vegano questo qua è adatto per pelli sensibili il packaging è composto dal 60% di materiale riciclato è un prodotto che a me è piaciuto moltissimo non ha profumazione, è un prodotto estremamente delicato ma comunque lava molto bene la pelle quindi lo consiglio veramente a chiunque sia alle persone che hanno magari problemi di allergie oppure una pelle molto sensibile ma anche a quelle persone che fanno la doccia ogni giorno e che quindi magari hanno bisogno di un prodotto un pochino più delicato veramente molto molto buono questo invece terminato è un gel doccia scrub di Natura House, linea bio Miracle Garden questa qua ve ne avevo parlato vi avevo fatto un video di spacchettamento che vi lascio tra le schede e poi vi avevo recensito tutta la linea nei prodotti mi sembra top e flop del periodo questo è un prodotto che a me piace è piaciuto moltissimo la profumazione sa un po' di tipo bib bubble, fragole però alla fine è buono lava molto bene la pelle fa un buono scrub anche se comunque è uno scrub delicato infatti questo l'ho utilizzato ogni giorno senza problemi e il packaging non è in plastica ma è ricavato da fibre vegetali che adesso non mi ricordo quali comunque è un prodotto senza parabeni, siliconi eccetera eccetera ottimo, ve lo consiglio e ho terminato anche la mini taglia sempre del doccia scrub fantastici, ve li straconsiglio sempre della stessa linea ho terminato anche la crema per le mani anche questa un'ottima crema super 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 nutriente idratante lasciava le mani morbide si assorbiva abbastanza rapidamente andava però leggermente massaggiata l'applicavo la sera prima di dormire e mi lasciava le mani veramente super morbide lisce un'ottima crema che andrò a tagliare poi ho terminato questo qua che è l'acqua miscellare di Biolaven un buon prodotto strucca bene delicata sugli occhi l'unica cosa che non mi è piaciuta tanto è la profumazione perché è molto dolce sa di fragolina e non lo so non mi è piaciuta molto però prodotto validissimo terminato poi uno shampoo della linea del marchio Dimension questo qua è per tutti i tipi di capelli effetto rivitalizzante con olio di avocado costa tipo un euro è il miglior shampoo liquido che io abbia mai provato in tutta la mia vita l'inci non sono dei migliori non è dei migliori e non lo ricomprerò perché sto passando appunto prodotti con packaging e ingredienti più sostenibili però veramente uno dei migliori shampoo mi ha provato mi lasciava capelli super morbidi leggeri lucenti puliti per tanti giorni una profumazione buonissima e se non siate attenti all'inci e al packaging ve lo consiglio perché è ottimo terminato anche un detergente intimo pH bio questo qua è rosmarino timo e menta non è il primo che utilizzo un ottimo prodotto purificante ma non aggressivo adatto per l'uso quotidiano non mi ha dato problemi di irritazioni bruciori eccetera ottimo e anche secondo me leggermente antiodore quindi perfetto poi ho terminato questa qua che era una spuma per radersi in edizione limitata di Balea questa qua al cioccolato bianco sono delle buone schiume il rasoio scorre bene sulla pelle non seccano la pelle sono ottime secondo me costano poco però rispetto al panetto solido che sto utilizzando del marchio Secret de Provence siamo proprio su un altro pianeta l'altro mi dura di più e mi dà un effetto di gambe lisce che questi non fanno però se volete qualcosa che costi poco da prendere così al volo da utilizzare in velocità ve le consiglio queste qua perché sono tutte ottime ho terminato poi anche delle mini taglie di gel doccia allora questo qua è quello di al verde limone e bergamotto ottimo non è il menta e bergamotto non è il primo che utilizzo veramente molto buoni questi gel doccia di al verde poi ho terminato il mini gel doccia tè verde di Winnie's Natural anche questo buono buona profumazione buon prodotto fa tanta schiuma vegano certificato Skin Eco e Icea buonissimo poi ho terminato tre mini doccia schiuma di Yves Rocher allora questo sicuramente non c'è più è quello alla pesca ho utilizzato anche la confezione quella grande è una buonissima profumazione di pesca buono un ottimo prodotto ma non lo fanno più questo non so se lo fanno ancora è della linea di questa linea qua hanno anche i profumi fatti così questo qua era quello ai fiori di ciliegio buonissimo profumo molto delicato buon prodotto poi questo qua che invece dovrebbe ancora esserci è quello alla mela e anice buono una buona profumazione particolare ma comunque fresca lava molto bene la pelle e non la secca quindi anche questo buono poi ho terminato questo qua che è un asciugasmalto della essence questo qua funziona alla grande asciuga all'istante qualsiasi tipo di smalto non l'ho più trovato però fatemi sapere se lo fanno ancora oppure no perché è un prodotto utilissimo io lo smalto non lo metto quasi mai ma quando lo metto con questo veramente in un secondo è asciutto poi ho terminato questo detergente per il viso nonic della linea extreme energy ma non fanno più questo prodotto comunque ha cambiato il packaging ha cambiato l'inch ha cambiato tutto quindi è inutile che ve ne parlo era in ogni caso un prodotto nì nulla di che che non non sarei andata a ricomprare terminata poi questo idrolato di lavanda di biofficina toscana fantastico rinfrescante lenitivo leggermente purificante aveva anche un'azione rilassante per via di questo buonissimo profumo di lavanda lo andavo a utilizzare al posto del tonico o comunque per andarmi a rinfrescare sul viso favoloso e vi dura anche abbastanza lo spruzzino nebulizza abbastanza bene quindi un buonissimo prodotto poi questo qua non è terminato ma l'ho diciamo abbandonato ai miei genitori e a mia sorella perché io non lo utilizzo più è il colgate della linea smile for good questo qua è quello protezione certificato eco shirt vegano tubetto riciclabile a me non è piaciuto proprio per niente profumazione sia anche abbastanza fresca ma nulla di che ma non lo so non mi è piaciuto sempre per quanto riguarda i dentifrici ho terminato invece quattro mini taglie del marchio himalaya ne ho mi sembra altre due da terminare allora due mini taglie sono uguali sono quelli sparkly white sono fatti così tra l'altro mi sono anche durati parecchio poi abbiamo quello della linea sensi relief credo e poi questo qua che è quello invece complete care che è il dentifricio alle erbe sono 100% vegetale senza parabeni sono praticamente li ho trovati praticamente tutti identici buoni ma non li andrei a ricomprare perché non mi hanno fatto proprio dire wow in ogni caso adesso sto utilizzando dentifrici in polvere quindi comunque se vi volete togliere lo sfizio non sono malvagi terminata questa crema mani del marchio Peggy Sage Peggy Sage Peggy Sage non lo so comunque l'acquistai al Cosmo prof questo qua è una crema mani a Monoi e Chiare una buonissima profumazione e basta perché non andava a idratare per niente le mani figuriamoci a nutrirle e si asciugava all'istante sembrava di non mettere niente fortunatamente era una taglia da 30 millilitri ma assolutamente no e mi sembra anche di averla pagata abbastanza poi ho terminato il balsamo labbra nocciotella di Alchemilla finalmente perché non ne potevo più ve l'ho messo tanto tempo fa in un video dei prodotti bocciati mi sembra comunque non mi è piaciuta la profumazione perché è buona ma sulle labbra è troppo forte e è troppo particolare quindi dopo un po' stanca quindi no è un buon balsamo idratante ma la profumazione è veramente insupportabile poi terminato questo mascara di Astra questo qua è quello insta volume è un mascara volumizzante mi è piaciuto i mascara Astra alla fine non sono male allo scuvolino con in setole non sono male costano poco fanno il loro lavoro effettivamente volumizzava bene le ciglia ve lo consiglio terminato poi la mucchina gel x germ disinfettante per le mani mi piace ha una profumazione buonissima e in più veramente molto buona e in più non appiccica le mani e non le va a seccare quindi a me quello piace ce n'ho un'altra confezione poi ho terminato l'integratore epigambe di Naturhaus anche questo mi era stato omaggiato dall'azienda io ho dei problemi di circolazione e in più prendo appunto delle medicine che non fanno proprio benissimo la circolazione in ogni caso io d'inverno ho i geloni e le mani e i piedi blu mi fanno malissimo sempre al tatto le gambe e in estate mi fanno male proprio male le vene i capillari inoltre c'è stato proprio dei mesi di fila dove io mi svegliavo e ogni giorno avevo almeno due o tre lividi sulle gambe quindi ero ricoperta di lividi sto insistendo con la dottoressa per fare una visita ma io ho 30 anni e 30 anni i dottori non ti segnano la visita non so come si chiama ecodoppler mi sembra non te lo segnano perché sei giovane non capisco perché nel senso se io ho dei problemi voglio indagare io spendo i soldi non capisco perché te decidi di no comunque nel frattempo che io sto insistendo per questa cosa mi ha consigliato di prendere un integratore e io ho scelto questo qua Naturhaus si era offerto di mandarmelo io ho accettato mi è piaciuto tanto perché ho verso la metà della confezione sono 60 capsule i lividi sono scomparsi cioè non me ne spuntavano più di nuovi e io non ho più avuto le vene che mi facevano male con il caldo mi lasciava le gambe leggere ho notato dei miglioramenti consistenti da quando appunto ho preso questo integratore quindi io penso di andarne a comprare un'altra confezione perché veramente l'ho trovato un prodotto buonissimo mi è piaciuto tanto ve lo consiglio sì sì ve lo consiglio poi ho terminato due salviettine fresh and clean mille usi classica buona e poi questo qua disinfettante che ne ho comprate mille mila mi piacciono e continuo a comprarle ho terminato poi alcune maschere per il viso questa qua di royal beauty purificante con estratti vegetali mi ha lasciato la pelle appiccicosa non mi ha dato nessun effetto il profumo non mi è piaciuto e aveva il buco per gli occhi piccolo quindi no poi ho terminato questa qua la bubble mask del marchio sugu questo qua ha un profumo cattivo le bolle sono poche pensavo fossero di più si sentiva uno scricchiolio durante appunto la posa della maschera però mi ha lasciato la pelle molto pulita molto morbida e molto liscia è veramente pulita a fondo e ve la consiglio questa mi è piaciuta poi ho terminato queste due maschere di Balea queste qua erano quelle divise in due questa sa di cocco quest'altra profumazione non mi è piaciuta mi hanno lasciato la pelle tutte e due idratata ma niente di che cioè queste maschere qua di Balea le trovo un po' tutte uguali idratano leggermente la pelle ma non è che poi si veda chissà che miracoli poi ho terminato questi rasoi di Balea questi qua costano poco ne ho acquistati quantità industriali sono ottime adesso come sapete utilizzo il rasoio di sicurezza oppure il rasoio quello con le testine cambiabili quindi non acquisterò più questo tipo di rasoi però buoni mi sono piaciuti ho terminato poi alcuni campioncini vado velocissima ho appena utilizzato il balsamo della linea del marchio Davines linea Minou tra tutti i balsamo che ho provato di questo marchio questo è il migliore perché districa all'istante capelli poi balsamo arancia e limone di Alchemilla un buonissimo balsamo poi bio balsamo crema ristrutturante linea capil venere di Elan non mi è piaciuto non l'ho trovato né ammorbidente né districante né niente shampoo per capelli naturali e colorati avevo capelli unti il giorno dopo questo qua sempre di Davines quindi no poi crema maniolivo di bottega verde non mi è piaciuta per niente la profumazione maschera per capelli nutrienti saponi di un tempo buono mi ha districato bene i capelli sapone intimo di officina nature linea quella ultra delicata senza profumo un ottimo prodotto ve lo straconsiglio ho fatto due o tre lavaggi con questo campioncino buonissimo comfort zone bagno doccia aromatico rinvigorente fantastico favoloso come tutti i prodotti di comfort zone poi crema quattro stagioni viso corpo di bio vera io lo utilizzo solamente sul corpo è una buona crema perché va a idratare ma non è pesante ok quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in questo periodo fatemi sapere che cosa avete finito voi o se avete qualcosa da consigliarmi se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao